Cagnolino tutto col colone, a raccontarci la sua storia e Carolina. Samba ha cinque anni, fatti vedere, fatti vedere che bravo che sei. Samba è un cagnolino buonissimo, va d'accordo con tutti, ha cinque anni, purtroppo aveva un papà che adesso è in cielo, non c'è più, e adesso lui sta cercando una famiglia che lo possa amare e tenere per sempre, perché purtroppo questo signore aveva solo un nipote che non poteva assolutamente tenerlo. E allora ci hanno chiesto aiuto per trovargli una famiglia che sia per sempre. Si vede proprio che Samba è un cucciolo dolcissimo. E siccome ha sofferto tanto per la perdita di suo papà, ha bisogno al più presto di trovare una famiglia. Quindi Carolina ci dà il numero per l'adozione di Samba? Chiamate in tanti, eh? Chiamate in tanti, mi raccomando. 333-21-21-062